Cos'è la neutropenia ciclica? La neutropenia ciclica è una forma rara di neutropenia, o disturbo del sangue, che di solito appare a intervalli di due settimane a un mese. Ogni periodo di incidenza dura da tre a sei giorni. La neutropenia ciclica è anche nota come neutropenia ciclica o emopoiesi ciclica. In generale, la neutropenia è una condizione medica che si verifica quando il numero di neutrofili è anormalmente basso. I neutrofili sono il gruppo più importante del corpo di globuli bianchi, o leucociti, perché sono le cellule del sistema immunitario che combattono le malattie infettive. I neutrofili, che costituiscono fino al 75% dei leucociti, assolvono questo compito distruggendo i batteri nel sangue. Pertanto, la ridotta quantità di neutrofili porta a una deficienza della difesa primaria del sistema immunitario e causa una persona più suscettibile alle infezioni batteriche e alle malattie in generale. La neutropenia ciclica potrebbe essere scatenata dalla bassa produzione di midollo osseo, che può essere ricondotta a un disturbo ereditario. Ciò riguarda la mutazione dell'elastasi dei neutrofili, solitamente abbreviate in allo2 e nota anche come elastasi leucocitaria. Questo è un enzima che contribuisce alla distruzione dei batteri. In generale, tuttavia, la neutropenia ha diverse possibili cause. Queste includono riduzione dell'osso danneggiato ridotto a causa di altre condizioni come il cancro o una carenza di produzione chiamata enemia plastica, distruzione di neutrofili da parte di alcuni farmaci o malattie autoimmuni e infezioni virali come virus dell'immunodeficienza umana, virus dell'immunodeficienza umana, che causa l'immunodeficienza acquisita sindrome, sindrome da immunodeficienza acquisita. Le persone con neutropenia ciclica di solito la scoprono per caso durante un controllo medico di routine. Altri lo scoprono dopo aver avuto una grave infezione con sintomi come diarrea, ulcere alla bocca, mal di gola o sensazione di bruciore durante la minzione. La neutropenia ciclica è considerata una forma rara del disturbo ed è generalmente benigna. Alcune persone, tuttavia, hanno perso la vita a causa dell'infezione perché sono rese più vulnerabili da essa. Poiché la neutropenia ciclica è tipicamente ereditata, può essere rilevata in più membri della stessa famiglia. I medici determinano l'estensione della condizione suddividendola in tre categorie sulla base di un conteggio assoluto dei neutrofili, ANC. Questi sono costituiti da neutropenia lieve, che denota un rischio minimo di infezione batterica, neutropenia moderata, che rappresenta un rischio moderato e neutropenia grave, che rappresenta un grave rischio. Sebbene non esista un trattamento ideale per la neutropenia ciclica, i medici si affidano tradizionalmente a fattori stimolanti le colonie di granulociti, fluido gicerebrospinale o fluido glicaspinale, come filgrastin per combatterlo. Grazie. Grazie.